Non c'è un po' di rinestimento, perché questo è il problema dei politici, perché stanno arrivando alla pena. I politici devono sempre tagliare sulle parti fondamentali e le parti della nostra società, per esempio l'istruzione e i trasporti pubblici, e non pensano mai a tagliare sui quali veramente inutili, come per esempio, gli aerei della guerra quest'anno sono state spieghi 8 milioni di euro, 8 milioni di investimenti di volte, fanno i raggiunti di loro, noi siamo un futuro, lì le chiamo!